Il perito informatico è una figura professionale capace di inserirsi in realtà molto differenziate, caratterizzate da rapide evoluzioni sia dal punto di vista tecnologico che da quello dell'organizzazione del lavoro. Trova la sua collocazione sia nelle imprese specializzate nella produzione di software, sia in tutte le situazioni in cui l'esercizio di sistemi di elaborazione dati sia in attività rilevanti indipendentemente dall'ambito di applicazione. Oltre a possedere una buona preparazione specifica su sistemi operativi, linguaggi di programmazione, tecnologie per il web, database e reti, il perito informatico è anche una figura professionale con competenze organizzative, in grado di svolgere mansioni che richiedono capacità di lavoro in team, di assumere e realizzare compiti in autonomia. Molti sono i periti informatici usciti dall'Istituto Tecnico, Tecnologico e Ostacchio di Vini di San Severino Marche che oggi fanno parte dello staff di aziende leader nel settore o che hanno creato la loro impresa. Alcuni ex studenti hanno invece scelto l'insegnamento, approfondendo le informazioni ricevute nelle università. Grazie 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 a tutti.